In uno dei forum dove ci sono molti che non mi vogliono tanto bene, ne ricapisco, questo qui è un forum ebraico, un forum importante, si chiama Consolenza ebraica, c'è scritto certo Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio, quindi qui a scrivere sono esegeti ebrei, tuttavia pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati, altrimenti sarebbero andati persi, e quindi per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio e poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia, spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Io sottoscrivo tutto. La Bibbia è un libro che è stato usato da chi vuole parlare di Dio, non è il libro che Dio ha ispirato per parlare a noi di Lui, è proprio il ribaltamento. Io sono d'accordo, la Bibbia è stata usata dai teologi che vogliono parlare di Dio e hanno scelto quel libro. E questo è significativo, molto significativo. Vi dicevo prima delle traduzioni, abbiamo visto prima per esempio Daniele che vede arrivare Unish, cioè vede arrivare Gabriele che arriva volando leggermente quando invece poi nei dizionari c'è scritto che questo arriva essendo pesantemente affaticato. C'è un altro racconto nel Libro dei Giudici, siamo nel capitolo 6 del Libro dei Giudici, quando uno dei cosiddetti angeli, in ebraico sono chiamati Malachim, incontra Gedeone, insomma fanno una serie di cose, dopodiché tra l'altro lì a Gedeone viene detto stai tranquillo non morirai, perché incontrare uno di quelli non era mai piacevole, cioè c'era sempre il rischio di essere ammazzati, gli angeli. E quindi lui era un po' preoccupato e gli dice stai tranquillo, insomma per questa volta anche hai visto uno di loro non morirai, ma fanno una serie di cose tra cui appunto parlano eccetera, poi l'angelo gli dice preparami del cibo, quindi lui va, torna a casa, l'angelo sta lì ad aspettarlo, prepara della carne lessa dentro del brodo, torna con la carne con il brodo e lui gliela fa mettere su una pietra e poi con un oggetto cilindrico gliela incendia e quindi incendia la carne che brucia sia la carne che il brodo. Dopodiché in tutte le Bibbie che, e quindi se l'amico che ha la Bibbia vuole andare a vedere, nel capitolo 6 dei giudici al versetto 21, giudici 6 capitolo 21, cosa c'è scritto? Possiamo leggerlo? C'è il microfono, arriva, arriva. L'angelo di Dio stese quindi l'estremità del bastone, che era alla sua parte, e toccò la carne e i pani non fermentati, che un fuoco ascendeva dalla roccia e consumava la carne e i pani non fermentati, in quanto all'angelo Dio svanì alla sua vista. Se voi avete delle Bibbie in casa andrete a vedere, potrete trovare svanì, disparve, scomparve, eccetera, eccetera, eccetera. In ebraico c'è scritto se ne andò camminando. Perché? Perché i malachim biblici non sono gli angeli spirituali con la luce, sono individui in carne ed ossa e quindi camminano. Per la teologia, siccome gli angeli devono essere entità spirituali, quando se ne vanno scompaiono alla vista. No, no, se ne vanno camminando. Finito. È semplicissimo, tutto coerente, non c'è bisogno di inventare niente, è tutto coerente. Degli angeli, dei cosiddetti angeli, dei cosiddetti teoi, vi dicevo prima che tutti ci raccontano la stessa storia, quindi anche nel libro Mondadori, quello lì, che è lì, parlo dei teoi omerici. Di questi qui, cioè dei teoi, che sarebbe il termine greco per indicare gli Elohim biblici, ci parla anche l'Apostolo Paolo. E quindi se ne parla l'Apostolo Paolo bisogna che i cristiani gli credano, perché Paolo è il fondatore del cristianesimo. E nella prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 8, Paolo dice Anche se, infatti, vi sono delle pretese o cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi ce n'è uno solo. Come di fatto ci sono, ma per noi conta uno. Questo, secondo i termini usati dai sapienti, non si chiama monoteismo, si chiama monolatria. Monolatria vuol dire essere consapevoli dell'esistenza di molte, chiamiamole così, divinità, ma sceglierne una e adorare quella. Punto. Paolo era un monolatra, non un monoteista. Lo dice qui. Come di fatto vi sono. Vi sono. E se lo dice Paolo, i cristiani ci devono credere. Per forza, è il fondatore del cristianesimo. Ma dice qualcosa di più Paolo in un'altra lettera, che adesso vi dico. vi dico. Parlando di questi qui, cioè dei cosiddetti angeli, che pagina è? Nella lettera agli ebrei, al capitolo 13, dice Non dimenticate l'ospitalità. Perché prima, mentre prendevamo il caffè, qualcuno mi diceva ma questi qui sono qui in mezzo a noi, no? si riconoscono, non si riconoscono, eccetera. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa, infatti, alcuni, senza saperli, hanno ospitato degli angeli. Cioè, sono talmente simili a noi, che non li avete riconosciuti. Quindi, se qualche estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché magari è uno di loro. Lettera agli ebrei, traduzione di famiglia cristiana. Cioè, ce lo dicono dappertutto. Poi è chiaro che la religione monoteista deve, come dire, arrampicarsi sugli specchi, ma questo c'è scritto. Questo c'è scritto. Ed è quello che vi dicevo all'inizio, no? Che faccio il lavoro più stupido di questo mondo. Vi leggo quello che c'è scritto. Dopodiché ci vengono spiegate un sacco di cose, che vanno tutte bene, per carità. Poi ognuno con la fede sceglie quello che vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Però, nel momento in cui uno fa la scelta, e fa anche una scelta di fede, almeno sappia quello che c'è scritto. C'è scritto che Paolo dice che gli dèi sono molti, che si possono ospitare degli angeli senza accorgersi di ospitare degli angeli. C'è scritto che onnipotente non è onnipotente. C'è scritto che non si parla di creazione, non si parla di peccato. Quello c'è scritto. E poi c'è ciò che ci viene raccontato. Ma quando ascoltiamo ciò che ci viene raccontato, se leggiamo la Bibbia, almeno noi sappiamo che cosa c'è scritto, perché altrimenti ascoltiamo soltanto le spiegazioni. Ed è per questo che io dico che è fondamentale, spesso vengono sulle mie pagine Facebook, anche a scrivere, li trovate scritti lì, non leggete i libri di Biglino. Io invece vi dico, leggete i libri dei teologi, leggeteli, però così come è giusto fare con i miei, leggeteli con la Bibbia a fianco. Come con i miei? Uguale, uguale. Voi prendete un mio libro e vi mettete la Bibbia lì. In modo che quando io, non ci sono più, quando io cito un versetto, voi andate a vedere lì sulla Bibbia. Ma fate lo stesso con i libri dei teologi. E dopo di che scegliete voi? Però l'importante è che quando si legge una spiegazione, ed è non è un caso, che io nei miei libri metto i versetti ebraici con la traduzione. Poi, ripeto, però andate a verificarli, non fidatevi, però fatelo anche con i libri di teologia, perché altrimenti uno corre il rischio di leggere la spiegazione senza sapere cosa c'è scritto veramente nel testo su cui quella spiegazione è stata elaborata. E questo è sbagliatissimo, no? Ma non vale solo per la Bibbia. Cioè, se io leggo delle interpretazioni di Pinocchio, per prima cosa devo leggere Pinocchio, e poi leggerò le spiegazioni, sapete, su Pinocchio ci sono, no? Interpretazioni psicanalitiche, psicologiche, religiose, pedagogiche, eccetera. Però se non conosco Pinocchio, è inutile che lega i libri scritti su Pinocchio. O comunque, quando leggo i libri su Pinocchio, mi tengo Pinocchio vicino, in modo che quando citano un certo passo, me lo vado a leggere. Facciamo così anche con la Bibbia. Perché poi nella Bibbia ci sono scritte queste cose qui. Capite? Altrimenti, ripeto, ascoltiamo soltanto le spiegazioni, e le spiegazioni sono molto spesso, ovviamente, molto ben costruite, sono talmente ben costruite, che sono scritte molto spesso come se la Bibbia non esistesse. perché ve l'ho detto prima, leggete la Bibbia e quando trovate dei passi dove sia affermato e documentato l'amore di Dio per l'umanità, attenzione, non per Israele, per l'umanità, per cortesia, segnalatemi lì. Quando si parla dell'umanità, cioè Dio che ama tutta l'umanità, segnalatemi lì. Perché io ho qualche difficoltà a trovarli. Il problema qual è? Che? Uno dei problemi è questo. Se volete provare a leggere la Bibbia in un modo che vi aiuti a capirla di più, leggete la Bibbia che avete in casa con questo accorgimento. Quando trovate Dio, voi lo togliete e non ci mettete nessuna traduzione, ma ci mettete il termine che hanno usato gli autori biblici, Elohim. Non chiedetevi cosa vuol dire perché tanto nessuno al mondo sa che cosa voglia dire esattamente. Per cui ogni volta che si tenta di dare una traduzione è comunque un qualcosa che poi deve essere spiegato perché non si sa. Però, siccome la Bibbia deve parlare di Dio, l'esegesi teologica ha scelto di tradurre Elohim con Dio. Ok? Quando voi trovate Altissimo, voi lo togliete e ci mettete il termine ebraico, Elyon, che in ebraico significa quello che sta sopra. Quando ci trovate Signore, perché è sempre così, eh, Signore o Eterno, voi ci mettete Yahweh, che è esattamente il termine che c'è nella Bibbia ogni volta che in italiano c'è il Signore o Eterno. E anche queste sono due traduzioni che nulla hanno che vedere con l'eventuale possibile significato di questo nome che non si sa qual è. Tant'è che in quello studio, in quel libro dei rabbini che vi ho fatto vedere prima, addirittura ci sono alcuni che ipotizzano che Yahweh sia la trasposizione della esclamazione che pronunciavano quando lo vedevano arrivare. Ecco è lui. Capite? Lo scrivono i rabbini, eh? Cioè, sarebbe diventato il nome quando dicevano Ecco è lui. Quindi pensate a uno che vede Dio arrivare. Ok? Perché se voi fate questa sostituzione qui, che significa sostituire delle traduzioni, lo dico proprio tranquillamente, fantasiose, con i termini originali, quindi non facciamo nessuna traduzione così, rispettiamo esattamente il testo, voi avrete una sensazione immediata. Perché quando leggete così, voi trovate Dio ha fatto questo, l'Altissimo ha fatto quest'altro, il Signore, l'Eterno, e quindi la sensazione, ovviamente, è che è sempre lui. No. Se voi la leggete così, capirete, ma lo capirete rapidissimamente, che quando gli autori biblici usavano questi termini, si riferivano a identità diverse. Lo capirete immediatamente. senza bisogno di tradurre, perché se si comincia a tradurre, si comincia a discutere, allora non traduciamo, così non discutiamo. Voi capirete che questo qui è il capo, che questi qui erano tanti, e che questo qui era uno di quelli. Lo capirete chiarissimamente. Chiarissimamente. perché, per esempio, voi leggerete Deuteronomio 32, quando l'Altissimo, quando Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini del popolo. Porzione di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è la parte della sua assegnazione. Cioè, quando Elion divideva, a lui è toccato Giacobbe. Capite? Versetto 12. Yahweh da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Fate questa sostituzione e capite subito. Quando il capo fa le divisioni, a lui tocca quella famiglia e lui dice questi me li guardo io da solo e con lui non c'è alcun Elohim straniero. È chiarissima la divisione. È chiarissima. Il capo, il gruppo, uno del gruppo, siccome la Bibbia si occupa di questo, si occupa di questo, ci dice a chi, cioè ci dice chi è stato assegnato a questo qui Giacobbe. E lui dice che fa tutto da solo. Questa storia qui della divisione ci è raccontata anche da Platone, sapete, nel Crizzo e nel Timeo, dove dice appunto che il capo, insomma, questi si sono divisi, spartiti i popoli, e Platone ci dice che in alcuni casi alcuni di loro governavano in coppia per affinità loro caratteriale, per, per, come dire, comunanza di obiettivi. Quindi alcuni di loro guidavano, per esempio, come Atena ed Efesto che si erano presi dei popoli e li guidavano assieme. Nella Bibbia ci dice che invece lui con questi qui ha fatto tutto da solo. Ma è uguale. È uguale. Ce ne sono differenze. È scritto qui, eh? Basta che facciate queste sostituzioni. Quando Israele, come vi ho detto prima, non faceva altro che combattere contro gli altri popoli, attenzione, quando leggerete la Bibbia capirete che i popoli con cui combatteva Israele sono appunto i cugini primi, cugini, zii e nipoti. vedrete che Israele mai si è sognato di combattere contro gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, perché Yahweh non poteva neanche immaginarsi di combattere contro quei popoli che erano affidati a dei suoi colleghi immensamente più potenti di lui. Lui combatteva contro le famiglie dei suoi, degli stessi appartenenti alla stessa famiglia di Abramo perché si strappavano i territori l'uno con l'altro. E nella famiglia di Abramo il padre si chiamava Terach che aveva Abramo Nacor e Aran Abramo ha Isacco Giacobbe che è Israele e abbiamo appena letto che a Yahweh viene affidato questo qui attenzione non Abramo abbiamo appena letto Giacobbe è l'eredità di Yahweh è l'assegnazione di Yahweh non Abramo Giacobbe quindi neppure tutta la famiglia di Abramo ma solo questo Aran ha un figlio che si chiama Lot che compare nella storia di Sodoma e Gomorra poi se abbiamo tempo ne parliamo da lui discendono i Moabiti e gli Ammoniti sapete che Giacobbe ha un fratello che si chiama Esau da cui discendono gli Edomiti e gli Amalekiti gli Amalekiti sono quelli di cui vi dicevo all'inizio quando Saulo li deve sterminare tutti ma viene punito perché lascia in vita il loro re quindi questi qui erano discendenti diretti del fratello gemello di Giacobbe capite contro chi combattevano poi gli altri da sterminare erano i Madianiti discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina che Turà quindi questi sono i nemici di Israele tutti familiari strettissimi tutti appartenenti alla stessa famiglia di Abramo Dallas Dynasty nessuna differenza nessuna differenza leggetelo in una di queste continue lotte il comandante delle forze di Israele che si chiama Yeftè sta combattendo contro gli Ammoniti Giudici 11 24 e lui parla con il re degli Ammoniti e sentite che cosa gli dice le terre di cui il tuo Elohim e qui c'è pure il nome Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni così anche noi ci teniamo quanto Yahweh l'Elohim nostro ci ha fatto possedere cioè il tuo Elohim ti ha dato quelle terre tu te le tieni benissimo il nostro Elohim ci ha dato queste terre noi ce le teniamo punto uguali nessuna differenza non è che gli dice a me le ha date Dio a te le ha date il tuo idoletto di pietra che no perché questo dice la teologia che esiste Dio e tutti gli altri erano dei poveri pagani scemi che parlavano con le pietre invece gli israeliti erano gli unici intelligenti e solo che gli israeliti dicono il tuo Elohim Kamosh ti ha dato quelle terre e tu te le tieni bene io mi tengo quelle che mi ha dato il mio Elohim io è punto finito nessuna differenza nessuna differenza è scritto qui eh non traduzione mia cioè più chiaro di così non si può essere poi è chiaro che la teologia deve fare i salti mortali o per non parlare mai di questi versetti ve le hanno commentati qualche volta oppure per cercare di dire che in realtà quando dicono questo volevano dire altro eh però signore allora lo facciamo anche con Dix Wheeler cioè quando volevano dire una cosa ne dicevano un'altra gli facciamo dire quello che vogliamo noi no cominciamo a vedere che cosa dicevano poi se qualcuno ci vuole mettere delle interpretazioni le metta ma non c'è bisogno di interpretazioni perché tutto è logico e coerente quando quando questi signori qui da Nacor discende uno che si chiama Labano quando questi signori dovevano prendere moglie tornavano nella famiglia di origine ok Abramo torna nella famiglia di origine a prendere la sua sorrellastra Sara Isacco a Isacco viene assegnata una femmina di Giacobbe quando deve prendere torna lì e quando c'era lui c'era questo qui e difatti lui sposerà due figlie di questo qui lui va lì ne vede una quella carina e lui dice vabbè se vuoi mia figlia devi lavorare per me per un certo periodo di tempo lui Giacobbe lavora dopodiché quando arriva il momento del matrimonio siccome c'era una famiglia una figlia bella e l'altra che era un cesso la prima notte Labano fica nel letto di Giacobbe il cesso lui se ne accorge al mattino e dice vabbè ormai niente se vuoi l'altra devi continuare a lavorare per me ok lui continua a lavorare finché a un certo punto le ha finalmente tutte e due va bene poi se ne va via siccome hanno passato il tempo a fregarsi l'uno con l'altro tanto per intenderci quando Giacobbe se ne va via con le mogli con un sacco di bestiame che era riuscito a procurarsi eccetera lui ritiene che questo qui lo abbia fregato per l'ennesima volta e lo insegue quando si tanto per dire l'amore che c'era dentro quelle famiglie no? quando si incontrano e riescono diciamo così a non combattere e arrivano a fare un patto e fanno un patto e erigono un cippo siamo in Genesi 32 e Labano dice a Giacobbe ecco questo mucchio di pietre questa stele che io eretto tramete è testimonio che io giuro di non oltrepassare questa stele dalla tua parte e tu giuri di non oltrepassare questo mucchio dalla mia parte per fare del male cioè giuriamo che nessuno dei due attraverserà questo confine con intenti ostili verso l'altro e ascoltate bene l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor saranno giudici tra noi cioè a garanzia di quel giuramento siccome uno apparteneva a questo ramo della famiglia l'altro apparteneva a questo ramo della famiglia dicono che per la garanzia da parte di questo è l'Elohim di Abramo e la garanzia per questo è l'Elohim di Nacor cioè l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor sono tutte e due garanti di quel confine ora come si può anche soltanto pensare che questi qui giurassero il nome di Dio e questi qui ritenessero che garante per loro fosse un mucchietto cioè un idoletto di pietra qui poi ovviamente che cosa fanno lo leggo anche in rete perché veramente io capisco che sono costretti inventare di tutto allora dicono questi erano monoteisti questi invece erano dei monolatri o al più degli enoteisti perché si usano un sacco di come dire definizioni molto alte per nascondere la realtà che invece è molto bella e molto affascinante enoteisti vuol dire che si adora un unico Dio senza arrivare necessariamente alla negazione degli altri mentre il monoteista adora un unico Dio negando tutti gli altri il monolatra accetta l'esistenza di tutti ma ne sceglie uno e quindi tutte queste grandi definizioni in questo caso facciamo un ragionamento semplice se questi qui parlavano con Dio e questi qui parlavano con delle pietre e questo qui era fratello di questo vogliamo dire che c'era un fratello intelligente e un fratello scemo ma secondo voi quanti minuti ci impiegava il fratello intelligente a dire al fratello scemo scusa non vedi che tu parli con quelle pietre vieni qui un attimo che ti presento il mio visto che Yahweh lo vedevano gli parlavano gli davano da mangiare gli preparavano il cibo quando lui arrivava stanco gli preparavano anche in modo che lui avesse possibilità di riposarsi e di lavarsi i piedi impolverati quanto ci metteva Abramo a spiegare al fratello scusa vieni con me che ti faccio vedere il mio che esiste mentre tu continui a parlare con delle pietre quanto tempo ci metteva secondo voi e invece questi sono andati avanti per decenni secondo la teologia con il fratello intelligente che aveva attinto alle vette del monoteismo e il fratello scemo che continuava a parlare con le pietre e come giuramento c'era questo qui che giurava su Dio e questo qui che giurava sui mucchietti di pietre ma si può anche solo pensare a una roba del genere è totalmente priva di senso erano due fratelli non popoli lontanissimi due fratelli solo che mentre Abramo è stato chiamato da un Elohim che gli ha detto vieni fuori dalla terra dei tuoi padri che andiamo a conquistarci un altro territorio questi qui sono rimasti in Mesopotamia quindi questi qui servivano gli Elohim che governavano in Mesopotamia Abramo serviva l'Elohim che l'aveva chiamato punto ma tutti avevano lo stesso potere tant'è che se voi avete voglia di leggere il commento che Rashid Truai che è uno dei più importanti commentatori della storia commentatori ebrei della Bibbia siamo intorno all'anno 1000 lui dice che qui c'erano chiaramente le due schiere che difendevano i due lati del confine tant'è che subito dopo che partono alla mattina per tempo Labano si levò baciò i suoi figli li benedisse poi partì e ritornò a casa sua mentre Giacobbe continuava il suo cammino gli si fecero incontro i malachim degli Elohim cioè gli angeli degli Elohim cioè i portatori di ordini degli Elohim Giacobbe ascoltate bene al vederli esclamò ma questo è l'accampamento degli Elohim attenzione questo è l'accampamento qui c'è scritto l'accampamento di Dio ovviamente ma io la leggo con questa sostituzione perché se c'è l'accampamento di Dio cosa vuol dire che Dio aveva l'accampamento? che aveva una canadese? ma attenzione è mica finita e chiamò quel luogo Mahanaim Mahanaim è un duale vuol dire due accampamenti cioè Giacobbe in quel posto ha visto due accampamenti e ha visto due accampamenti e dice ma questo è l'accampamento degli Elohim chiama quel luogo due accampamenti e se ne va io ho fatto 15 mesi di Naya negli Alpini nella Nato e questa roba qui eravamo sempre in giro quindi quando c'erano gli accampamenti arrivava qualcuno i Malakim si avvicinavano e dicevano non si può è esattamente la scena descritta qui arriva gli si avvicinano gli si fanno incontro i Malakim lui dice oh madonna questo è l'accampamento degli Elohim è tutto coerente non c'è bisogno di inventare niente spero sempre di incontrarli per chiederglielo tant'è dunque andiamo a questa qui è bellissima poi provo a rispondere solo che so già cosa mi costa questa risposta poi allora ci sono appunto i due accampamenti poi sappiamo che Giacobbe ha sempre le contese con Esau sapete per il via della primogenitura no? questa è una storie che conosciamo tutti no? il piatto di lenticchie ecco erano gemelli questi gemelli nascono guarda caso dopo che un Elohim ha visitato la loro madre tanto per cambiare e Yahweh dice sempre Giacobbe è il mio primogenito ma la Bibbia ci dice che Giacobbe è nato per secondo perché il primo uscire è stato Esau ma qualunque ginecologo vi spiegherà che in un concepimento gemellare quello che esce per secondo è quello che è stato concepito per primo tant'è che si è attaccato più in alto nell'utero e quindi esce per secondo quindi il vero primo generato è Giacobbe non Esau e chi applica questo discorso della primogenitura evidentemente queste cose le sapeva quindi un Elohim è intervenuto sulla madre c'è stato un concepimento gemellare e quello che nasce per secondo viene considerato il primogenito cioè quello che è stato fecondato per primo è una cosa precisa quindi chi ha fatto questo conosceva poi viene raccontata la storia del piatto delle antiche per cui Esau cede alla primogenitura e qui c'è un altro discorso che è interessantissimo sapete che la madre poi aiuta Giacobbe a ingannare il padre Isacco siccome Esau era peloso allora quando deve dare la benedizione per la primogenitura mette un vello addosso a a Giacobbe in modo che il padre cieco vecchio lo tocca lo sente molto peloso ed è convinto che sia Esau e quindi gli dà la benedizione del primogenito dovete sapere che nella Bibbia il concetto di benedizione significa sempre trasmissione di beni materiali sapete noi siamo abituati a pensare alla benedizione come uno che fa così dice ok mi ha benedetto sono tranquillo quando leggerete quel passo leggerete una cosa bellissima quando Esau arriva per prendere la benedizione Isacco dice no ma io l'ho già data tutta Esau gli dice ma non ne hai un po' per me cioè voi pensate una benedizione che finisce voi domani domenica mattina andate a messa arrivate in ritardo e dite al sacerdote mi dai la benedizione e il sacerdote vi dice no l'ho già data tutta i fedeli non ne ho più questo c'è scritto nella Bibbia ma non è una stupidaggine che fa ridere è la verità perché dare la benedizione siccome tutto passava al primo genito e gli altri non contavano nulla quando lui dice io ho dato tutto a Giacobbe vuol dire che tutti i beni terreni animali schiavi sono stati dati tutti a Giacobbe per te non ne ho più perché questa è la Berachah nell'ebraico è la trasmissione di beni materiali ed è per questo che Saù dice ma non ne hai un po' per me e il padre gli dice no l'ho data tutta non ne ho più è chiaro cioè non è che parlassero così perché erano idioti è che data tutta a lui per te non ce n'è più non ce n'è anche una pecora è tutto suo questo ci racconta la Bibbia capite? e allora il contrasto tra i due ovviamente è un contrasto continuo ad un certo punto siamo in Genesi 35 Elohim che viene usato con il verbo singolare quando intende dire che il gruppo degli Elohim stava operando assieme di concerto quindi il gruppo degli Elohim disse a Giacobbe levati sali a Betel e la risiedi allora prima di di entrare qui io parlavo fuori con Laura e Paola e adesso io dico a Laura e Paola voi dovete offrire un'aranciata a quel io ve lo dico a quel Mauro Biglino che avete incontrato lì fuori voi siete persone educate e non mi dite che cosa state pensando di me ma dite ma sei un coglione non sei tu? cioè io che vi dico a quel Mauro Biglino che avete e sono io no? sentite cosa dice Elohim disse a Giacobbe costruisci in quel luogo un altare al El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esau cioè Dio dice costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso quando fuggivi da Esau ma come fa Dio a dire una roba del genere? è che in ebraico è scritto chiaro il gruppo degli Elohim dice costruisci un altare a quel e in ebraico c'è il singolare a quel El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esau cioè l'altare lo devi fare a quello di noi che ti si è presentato quando scappavi a lui lo devi fare l'altare è chiarissimo è chiarissimo a lui lo devi fare quell'altare lì così Giacobbe e là egli costruì un altare chiamò quel luogo El Bet El che vuol dire El della casa di El perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello ora anche qui si era rivelato o ti è apparso dovete sapere che in ebraico c'è scritto ti si è fatto vedere che sarebbe un po' come voi diceste ad un amico ma sono due anni che non mi appari no sono due anni che non ti fai vedere questo è scritto nell'Antico Testamento e qui dovreste fermarvi perché vi sto dando una una traduzione quindi dovreste fermarmi nel patto che abbiamo fatto all'inizio comunque in ebraico c'è scritto questo allora qui lo dice chiaramente a quello di noi che ma la cosa bella è che Giacobbe poi dice fa un'affermazione che se pensate si è rivolta a Dio allora Giacobbe fece questa promessa se l'Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare vesti per vestire e se ritornerò in pace alla casa di mio padre allora Yahweh sarà il mio Dio sarà il mio Elohim e questa pietra che ho eletto come stele sarà una casa e di tutto questo che mi darai io ti offrirò la decima caro Elohim attenzione se farai tutte queste cose per me perché se non le fai col cavolo che io ti do la decima la do a un altro cioè come si fa a porre Dio in questo stato di ricatto se tu fai queste cose per me ti do la decima il che vuol dire se non le fai te la sogni ovvio perché questi erano tanti e come è scritto spesso nella Bibbia loro alle volte mollavano questo qui per andare da altri per esempio l'Elohim dei Moabiti che si chiamava Kamosh era un Elohim che amava praticare sesso e lo faceva praticare ai suoi tant'è che spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da questo è chiaro che fare sesso è meglio che fare la guerra visto che Yahweh nella Bibbia è definito Ishmil Hamah cioè uomo di guerra lo trovate tradotto uomo di guerra nelle Bibbie che avete in casa è traduzione corretta nel libro dell'Esodo c'è scritto Yahweh è uomo di guerra infatti faceva solo quello allora tra l'altro ripeto questo qui faceva sesso e lui diceva se voi mi mollate per andare da uno di questi io vi ammazzo e lo faceva leggetelo lo troverete quando loro mollano lui per andare a fare sesso qui lui li ammazza non andava per il sottile questo qui di fatti aveva un epiteto cioè veniva chiamato Baal Peor che vuol dire Baal signore signore dell'esposizione degli organi genitali Peor significa questo quando la teologia si è impossessata del tutto e ha trasformato Yahweh nel dio spirituale onnisciente trascendente onnipotente creatore dei cieli della terra e nel mondo diciamo così dell'aldilà ha ovviamente identificato anche la figura dei suoi nemici cioè i diavoli no? bene i nomi dei diavoli da dove arrivano? dagli stessi nomi che avevano i suoi rivali concreti gli Elohim concreti nella lotta quotidiana che avevano Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor che poi è diventato Belfagor quindi il nome del diavolo Belfagor non è altro che una invenzione derivante dalla trasposizione e trasformazione dell'epiteto di uno degli Elohim Baal Peor è diventato Belfagor cioè inventato Dio hanno inventato i demoni nella Bibbia non c'è neanche Satana cioè Satana è inteso come principe dei demoni non esiste cioè ve lo dico proprio in assoluta tranquillità non esiste non esiste neppure nell'Antico Testamento Satana non è altro che la definizione di una funzione cioè dell'incarico di pubblico ministero cioè di accusatore di rivale che veniva svolta protempore poteva essere svolta anche da uomini e per esempio in un caso viene svolta su ordine diretto di Yahweh che dice tu adesso fai da Satana contro quello là cioè fai da pubblico ministero contro quello là quando terminava la necessità terminava la funzione la teologia ha preso Satana e ne ha fatto il principe spirituale dei demoni del male non c'è non c'è non c'è neanche Lucifero Lucifero è citato nel libro di Isaia quando Isaia prende in giro uno dei regnanti babilonesi che non si sa bene se è Nabucodonos o Ronabonedo e gli dice tu che ti credevi la stella portatore di luce sei caduto come tutti gli altri e siccome la stella portatore di luce è Lucifero allora di lì è stata inventata la figura dell'angelo decaduto poi spesso abbinata a Satana per cui si dice che il tentatore di Eva è Satana Lucifero cosa che la Bibbia non dice mai 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 la unificazione tra colui che ha tentato Eva e il diavolo è una delle tante invenzioni teologiche leggetela la Bibbia non troverete mai questo accorpamento non lo troverete mai perché non c'è Satana come entità come individuo non esiste infatti mi fanno ridere quelli che dicono che io sono un satanista Belfagor è quello lì ce n'era un altro che si chiamava Balzavuv che è diventato Belzebù Balzavuv significava signore delle mosche secondo una chiave di lettura secondo altre chiave di lettura era signore del potere perché dipende da come viene vocalizzato ma fa niente comunque Balzavuv diventa Belzebù Balpeor diventa Belfagor è tutto lì sotto i nostri occhi capite? tutto sotto i nostri occhi possibile che non abbiate domande? io vado avanti non è un problema ma non avete domande ah giusto pensavo di sfangarla allora gli Elohim erano chiaramente degli individui che avevano conoscenze tecnologie incomparabili con quelle dei popoli che governavano la Bibbia non ci dice da dove arrivavano non ce lo dice quindi su questo bisogna essere chiari la Bibbia però nel Salmo 22 ci dice che al grande capo appartengono la terra con tutto ciò che c'è l'universo con i suoi abitanti quindi la Bibbia distingue tra la terra e l'universo con i suoi abitanti quindi questa roba qui è una dichiarazione del fatto che l'universo ha degli abitanti ok? per rispondere a questa domanda dobbiamo uscire un attimo dalla Bibbia perché ripeto la Bibbia non ci dice da dove arrivano gli Elohim non ci parla dell'origine di questi qui i popoli di tutti i continenti della terra ci parlano di questi qui come dei figli delle stelle cioè di gente che è arrivata da un'altra parte è arrivata qui e ha fatto quelle cose che invece poi la Bibbia ci racconta cioè di lì in avanti il racconto diciamo così si unifica ora io ovviamente non ho nessuna prova per dire che questi qui arrivano da perché non lo so ovviamente però io faccio finta allora dico se faccio finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero provo a fare finta che sia vero anche ciò che c'è scritto negli altri testi antichi dove ci si dice che questi qui arrivano da altre parti alcuni di questi testi ci identificano anche parti del cielo da cui arrivano per esempio nei Veda si parla di uno dei punti di arrivo nei Veda si dice che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi di cui molte sono arrivate qui perché in effetti il pianeta Terra è un pianeta che dal punto di vista diciamo di eventuali scienziati sperimentatori e inseminatori di vita ha delle caratteristiche straordinarie tanto che basta guardarla nel senso che come dire consente una biodiversità straordinaria quindi per qualsiasi sperimentatore è un laboratorio fantastico allora moltissime specie sarebbero arrivate qui una di queste sarebbe arrivata da una zona che in sanscrito viene definita Marigashiras che significa testa dell'antilope e che identifica un ammasso che si trova diciamo all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione sapete che Orione è il gigante cacciatore della Beozia e quindi lui ha l'antilope cacciata che tiene sulla spalla e quindi la testa pende lì e quindi quell'ammasso lì si chiama Marigashiras cioè testa dell'antilope una parte arriverebbe di lì e lì Orione ha fatto appunto sapete le quattro grandi stelle quindi Betelgeuse tra l'altro questa stella si chiama Betelgeuse quella alla spalla destra e Betel in ebraico significa casa di El in realtà in arabo Beteljausa significherebbe cioè il braccio del gigante quindi c'è Betelgeuse Bellatrix Rigel e Saphir e poi Alnitaka che sono le stelle della cintura di Orione quindi una parte arriverebbe da quella zona lì del cielo questo ci dicono i Veda per cui se noi facciamo finta che sia vero ciò che ci dicono i testi antichi prendiamo atto che questi qui erano figli delle stelle cioè che sono arrivati qui da un'altra parte ripeto non ho nessuna prova per sostenere questa tesi però siccome ritengo che non avessero tanto tempo da perdere perché noi ci mettiamo al computer poi non ci piace cancelliamo allora scrivere era costosissimo da tutti i punti di vista cioè costava molto ma non dico semplicemente in termini economici o finanziari ma vuole dire significava preparare delle persone e poi con tutto quello che questo comportava e quindi forse questi qui tenevano a memoria dei fatti veramente importanti per la storia dell'umanità e lo facevano sotto dettatura cioè come dire da parte qualcuno che diceva scrivi perché ti racconto come sono andate le cose anche quindi come abbiamo fatto voi quindi se noi prendiamo atto facciamo finta che ciò che dicevano gli antichi sia vero questi qui arrivano da altre parti ok? quindi questa è la risposta non sono in grado veramente di provare perché non ho prove altrimenti sarebbe tutto più facile ma le prove non le ho ovviamente però faccio finta che i testi antichi esattamente come lo faccio con la Bibbia ripeto quello che ho già detto prima non so se è vero ma certamente è coerente cioè tutto questo spiega molto spiega il fatto che noi siamo per il pianeta Terra dei disad cioè noi come umanità siamo dei disadattati cioè nel senso che se noi guardiamo qualunque essere vivente qualunque dalla giraffa all'aquila a quel che volete vedete che ogni essere vivente nasce geneticamente strutturato per essere adatto a uno o due o tre ambienti naturali ben precisi ogni essere vivente io vi sfido a trovare un ambiente naturale per il quale l'uomo sia per natura adatto a viverci così come nasce non ce n'è uno noi non abbiamo più protezioni i geni che producono i peli in noi sono silenziati quindi non abbiamo protezioni per il corpo non abbiamo le zanne non abbiamo gli artigli non abbiamo nessun senso sviluppato in un modo particolare per cui né l'olfatto né l'udito noi per sopravvivere siamo costretti ad adattarci a tutti gli ambienti naturali e siamo costretti soprattutto a modificarli in modo da renderli per noi vivibili perché noi siamo dei disadattati rispetto al pianeta Terra tra l'altro c'è un altro fatto noi abbiamo si dice l'evoluzione noi arriviamo non diciamo dalle scimmie perché da un progenitore comune ma noi abbiamo 46 cromosomi e tutti gli altri ne hanno 48 e noi abbiamo 46 cromosomi per via del fatto che in origine il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti questa è una mutazione come spiegano i genetisti se avviene in natura è mortale per l'individuo cioè l'individuo non sopravvive si chiama perché poi lo si fa come ingegneria genetica traslocazione roberzognana cioè vengono uniti due cromosomi combinazione il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti in una porzione che è assolutamente ininfluente cioè per cui ha continuato a renderli funzionali non solo perché questo si sia trasmesso è stato necessario che questo evento assolutamente casuale si sia verificato in un maschio e il maschio si è sopravvissuto si sia verificato in una femmina e questa si è sopravvissuta i due si siano incontrati nelle foreste si siano uniti con i due lì abbiano fatto dei figli che sono sopravvissuti statisticamente non esiste non esiste cioè non esiste in natura la possibilità che questo sia avvenuto cioè che due individui abbiano subito questa modificazione che è mortale si siano sopravvissuti tutti e due si siano incontrati abbiano fatto sesso abbiano fatto dei figli tant'è che i genetisti che scrivono nei libri con i quali sto collaborando scrivono questa cosa è spiegabile soltanto se c'è stato un gruppo di maschi e un gruppo di femmine su cui è stata prodotta questa traslocazione roberzoniana sotto controllo sono stati fatti incrociare sotto controllo è stata controllata la progegne per un certo periodo di tempo e dopo è stata diffusa e la traslocazione roberzoniana ha avuto un significato molto preciso siccome bisognava perché questo ce lo dicono ancora i testi antichi costruire una specie di individui in grado di capire e eseguire ordini anche complessi bisognava che mentre si faceva questo esperimento questi non si unissero più con le specie precedenti o meglio se anche si univano non dovevano più fare figli e l'unico modo per rendere incompatibili i due patrimoni genetici era fare sì che quegli altri continuassero a averne 48 e noi 46 così se anche facevano sesso non erano non erano tra loro fertili perché i 46 non si uniscono i 48 quindi è un qualcosa di fatto specificamente vi ho detto prima che noi abbiamo i peli silenziati i geni salvo non nel caso mio quelli dei capelli che crescono all'infinito e questa è una roba che la natura l'evoluzione avrebbe selezionato immediatamente perché in un ambiente selvaggio avere un individuo che ha 5 metri di capelli cioè non ci arriva neanche a 5 metri di capelli muore prima perché non è in grado di inseguire una preda non è in grado di sfuggire una preda se finisce in acqua muore annegato è una roba che sarebbe stata eliminata totalmente perché noi abbiamo questa parte qui perché piaceva a loro tant'è e lo dice ancora una volta anche qui anche Paolo guardate un po' quante cose ci dice Paolo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli cioè tutti noi diciamo che la donna si mette il velo per rispetto verso Dio col cavolo a motivo che vuol dire a causa degli angeli perché quelli erano attratti sessualmente dalle ragazze giovani con i capelli lunghi tant'è che ne parla addirittura Tertulliano nel De Virginibus Belandis dice che le ragazze che partecipano all'assemblea alle quali sono presenti gli angeli si coprono il capo a loro tutela per non eccitarli sessualmente nei testi di Qumram c'è scritto che le ragazze che partecipano all'assemblea alle quali sono presenti in Malachim a loro tutela si coprano il capo a loro tutela non per rispetto cioè noi ci facciamo i cani con la coda riccia le gambe corte il muso rincagnato eccetera loro ci hanno fatti con questa parte qui perché piaceva a loro gli altri peli li hanno silenziati la natura non avrebbe mai fatto una roba del genere o li silenziava tutti o ci lasciava come prima con la copertura c'è un altro animale che ha i peli che crescono all'infinito ed è la pecora e la pecora secondo la paleogenetica è uno uno degli animali prodotti artificialmente tant'è che tutti gli ovini che vivono in natura non hanno i peli che crescono all'infinito la pecora sì tant'è che bisogna tosarla e l'assitosa perde i fini precisi i camosci no nessun animale neanche quelli che vivono al freddo ha il pelo che cresce all'infinito nessuno noi abbiamo io no voi avete questa roba qui che cresce all'infinito che è una roba che in natura non esiste e qui ci dice che qui a motivo di copritevi la testa di là ci dice a motivo di copritevi la testa perché quelli non vanno per il sottile sono eccitati sessualmente quindi ci hanno fatto delle cose che a loro piacevano quindi ci hanno tolto dei peli che a loro non piacevano e hanno lasciato dei peli che a loro piacevano siamo degli animali di allevamento questo capisco che può essere come insomma da un certo punto di vista un po' deludente secondo me è molto affascinante perché intanto ci aiuta un pochettino a capire che cosa siamo ma ma se non basta se non basta non siamo cioè non hanno operato soltanto su di noi non hanno operato soltanto su di noi e qui facciamo parlare la scienza ufficiale così se lo trovo le scienze agosto 2014 un mostro chiamato frumento ora noi sappiamo che per quanto riguarda la nostra parte dell'emisfero del pianeta il grano ha nutrito nella storia milioni di persone perché ha tutta una serie di tanto appunto perché nutre facilmente perché è lavorabile ma soprattutto perché è stoccabile e conservabile allora cosa ci dice la genetica ufficiale sul grano ci dice che è avvenuto un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire cioè la componente selvatica del triticum urartum cioè un farro selvatico ha fuso il suo intero genoma con quello di un'altra graminacea e ne è nata una nuova specie selvatica che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e questa roba in natura non può avvenire non avviene cioè se succede casualmente questa fusione l'individuo muore il triticum da cui tutto è partito è un vero e proprio lo definiscono qui mostro genetico non può esistere ma attenzione circa 8000-9000 anni fa nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud ovest del Mar Caspio esattamente dove si colloca il Gan Eden biblico avvenne un secondo evento genetico fra virgolette impossibile un'altra fusione ma non è mica finita in seguito una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro triticum il grano con cui facciamo il pane eccetera cioè l'alimento che qui da noi questa parte dell'emisfero del pianeta ha nutrito nella storia milioni di uomini è frutto di una serie di eventi genetici impossibili ma sono avvenuti e non sono avvenuti nella Margherita nella Violetta sono avvenuti in un alimento che era funzionale che ha nutrito milioni di lavoratori da loro fabbricati tutti eventi genetici impossibili ma lo dice la scienza ufficiale e guarda caso sono avvenuti dove dove i testi antichi ci dicono che c'erano quelli lì che operavano cioè guardate che sono coincidenze veramente è avvenuto proprio su quello ne sono avvenuti tanti nel corso di alcune migliaia di anni quindi che hanno portato esattamente a ciò che serviva ma non è mica avvenuto soltanto con quello contemporaneamente dall'altra parte del mondo la stessa cosa cioè la stessa serie di eventi genetici impossibili è avvenuta sulla patata un OGM naturale OGM e noi sappiamo che nel continente americano la patata commestibile ha nutrito milioni di persone esattamente come da noi il grano e che cosa è avvenuto là che il DNA dell'agrobacterium si è inglobato completamente nel DNA della patata selvatica rendendola commestibile questa roba qui in natura non può avvenire difatti dice che si tratta di un trasferimento genico orizzontale e in genere questo batterio riesce a trasferire solo una ristretta porzione delle cellule di una pianta ma in questo caso virgola proprio come avviene per gli OGM in laboratorio la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare come avviene con gli OGM in laboratorio non in natura e quindi ha generato una progenne di individui che recano il DNA alieno alieno inteso come diverso ed estraneo non alieno e questo è avvenuto diecimila anni fa in Peru cioè mentre di qui eventi genetici impossibili portavano alla fabbricazione del grano di là evento genetico impossibile ha portato alla fabbricazione dell'altro grande alimento che ha nutrito milioni di persone ma è possibile che sia tutto casuale? è possibile che sia tutto casuale? visto che i testi antichi ci dicono che là e qui c'erano quelli lì che operavano e facevano queste robe basta che mettiamo insieme le due cose non c'è bisogno di inventare nulla perché altrimenti qualcuno deve dare la spiegazione al fatto che c'è stata una serie di eventi genetici impossibili che si sono però verificati ma se sono impossibili e si sono verificati la domanda è chi li ha fatti verificare? i testi antichi ce lo dicono dopodiché noi possiamo crederci o no ognuno faccia la sua scelta però queste cose qui ci sono sono lì davanti ai nostri occhi le dice la scienza la scienza capite che insomma a forza di mettere assieme le cose a forza di fare finta ripeto si costruisce un quadro che è coerente poi io non so se è vero perché per dire che è vero dovrei avere le prove che non ho ma è coerente cioè se mettiamo assieme tutti questi tasselli il mosaico che si compone funziona voi mettete assieme i tasselli delle interpretazioni esegetiche filologiche teologiche mettetele assieme leggendo la Bibbia leggendo ciò che dicono e poi stabilite voi se funzionano oppure no fatelo autonomamente fatelo autonomamente mettete assieme questi tipi di tasselle e mettete assieme quegli altri tipi di tasselli tanto l'unica cosa che conta è ciò che pensate voi perché non c'è da sostituire una verità con un'altra nel modo più assoluto si tratta di sostituire una religione con un'altra un pensiero con un altro si tratta di dire che i testi antichi al di là di ciò che anzi molto prima di ciò che viene fatto loro dire dicono delle cose precise facciamo finta che quelle cose precise siano vere e vediamo che cosa ne viene fuori punto finito ci piace lo teniamo non ci piace lo buttiamo che problema c'è però facciamo questa prova perché altrimenti continuiamo a mantenere soltanto quelle spiegazioni là e se quelle spiegazioni là le caliamo nella Bibbia vi dico il mio pensiero ma voi lo dovete verificare non tornano non c'è nulla che funziona voi provate a leggere la Bibbia in questo modo qui e provate a leggerla considerando che questo sia sempre lo stesso Dio sempre l'unico capirete vedrete che la Bibbia è un papocchio incomprensibile incomprensibile pieno di contraddizioni me ne fate vedere alcune no? cioè questo questo che giura su una cosa è il fratello che giura sulle pietre questo che dice il mio Dio mi ha dato della roba e me la tengo il tuo mucchietto di pietre ti ha dato della roba e tu te la ti cioè non c'è niente che funziona niente d'altra parte porca miseria domani mattina finisce la nostra civiltà dico domani mattina così finisco la conferenza domani mattina finisce finisce la nostra civiltà disastro tra 3.000 anni arriva qualcuno a scavare qui trova migliaia di statue in gesso in pietra in metallo in plastica in gomma in legno in quel che vuole di uno inchiodato su una croce migliaia fa tutte le ricerche documentali e arriva alla conclusione che dell'esistenza di questo qui non c'è nessuna prova storica com'è non c'è nessuna prova storica ve l'ho detto prima poi trova migliaia di altre statue e fa una ricerca su questa religione e dice dunque 3.000 anni fa c'erano delle persone che adoravano uno che dicevano essere uno di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza dicevano che questo qui fosse figlio di un dio di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza poi si sono creati tutta una serie di divinità intermedie quindi penso alle statuette di padre Pio di tutto quel che volete tutta una serie di che servivano da intermediari tra tra loro tra loro e questo dio qui di cui non c'è nessuna prova dell'esistenza 3.000 anni fa la terra era popolata da idolatri o no cioè se noi applichiamo alla nostra cultura attuale quel criterio interpretativo che viene applicato per dimostrare che quelli lì erano dei poveri pagani questi qui scusate questi qui erano dei poveri pagani idolatri tutti i cristiani devono rassegnarsi all'idea che tra 3.000 anni saranno considerati degli idolatri perché questo è arrivo poi a un certo punto per un certo numero di secoli non si è mai sentito parlare poi da un certo punto in avanti a quello lì che ho dato in croce hanno cominciato a dire che anche sua madre era divina quindi anche lei faceva dei miracoli queste statuette poi queste qui si facevano delle statuette e pregavano di fronte a queste statuette avete mai sentito dire io sono devoto della Madonna di Lourdes io invece sono devoto della Madonna di Međugorje avete mai sentito dire io invece ma questa non è idolatria io sono devoto della Madonna di Lourdes io invece prego la Madonna di Međugorje non è idolatria è uscita una rivista che è il mio Papa che è dedicata esclusivamente a Papa Francesco sulla copertina del numero c'è scritto le cinque madonne che Francesco prega le cinque madonne quando tra tremila anni troveranno quella rivista lì cosa diranno? che il capo di quella religione era un idolatra perché pregava cinque figure della madre del Dio che si sono inventato perché di quel Dio non c'è nessuna prova storica della sua esistenza ma è o non è così porca miseria? cioè che cosa abbiamo di diverso noi rispetto a quelli lì? ma non ci compriamo le statuette di Padre Pio perché ci sembra che parlare con la statuetta Padre Pio sia più vicino? ma questa è o non è idolatria? non ci portiamo a casa le statuette della Madonna di Lourdes perché ci sembra che così con la plastica lì ce l'abbiamo più vicina? ma è o non è idolatria questa qui? esattamente come quella là la differenza qual era? che mentre lui lui questo qui ai suoi aveva dato ordine di me non farete nessuna rappresentazione e qui sarebbe interessante capire perché lui non voleva farsi vedere questi altri non avevano questa proibizione e quindi esattamente come noi siccome i loro capi erano lontani si facevano le statuette così come noi ci facciamo le statuette di gesso di Padre Pio non c'è nessuna differenza con che diritto diciamo che quelli erano i poveri stupidi idolatri invece noi invece noi siamo uguali siamo uguali ci mettiamo Padre Pio sul comodino ci mettiamo la Madonna di Lourdes mentre gli altri si mettono la Madonna di Međugorje e il Papa ne prega cinque c'è scritto nella sua rivista prego grazie mi scusa mi chiede grazie mi chiede mi chiede cosa ne facesse e se gli altri Elohim avevano la stessa uso e costume ok allora ho dato ordine di passare siccome queste qui non volevano piegarsi ai miei ordini avevo dato ordine di passare per il fuoco tutti i loro primogeniti perché loro capissero che io sono quello che comanda e quindi se li faceva bruciare nella Bibbia c'è scritto ripetutamente lo leggete nel libro dei numeri capitolo 28 che loro si facevano bruciare il grasso degli animali e dei cuccioli di uomo perché il fumo prodotto da quel grasso li calmava questo lo trovate nella Bibbia anche in casa perché quel fumo mi calma e lui c'era un particolare tipo di grasso che era riservato a lui e che lui descrive espressamente leggo la traduzione della conferenza episcopale italiana in Levitico 3 Levitico 3 versetto 3 di questo sacrificio offrerete consumato dal fuoco per Yahweh il grasso che avvolge le viscere tutto quello che vi è sopra i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni è Dio che parla cioè dà una indicazione di macelleria precisissima quel grasso lì è mio e quando leggerete la Bibbia troverete in altri passi che c'è scritto se trovate qualcuno che usa quel grasso per lui lo ammazzate perché quel grasso è mio e quel grasso andava bruciato per essere trasformato in fumo perché quel fumo lo calmava e lo troverete scritto nel libro dei numeri e questo fumo ripeto derivava sia dal grasso degli animali trattato in quel modo lì sia dal grasso dei cuccioli di uomo questa roba qui nell'Iria dell'Odissia è scritta più di 30 volte cioè i teoi greci volevano esattamente ciò che volevano gli Elohim biblici non c'è più nel libro La Bibbia non parla di Dio di Mondadori io ho analizzato quella che si chiama la stella di Mesha Mesha è il re dei Moabiti che parlando del suo Kamosh racconta esattamente le stesse cose che la Bibbia degli Israeliti racconta di Yahweh esattamente le stesse cose nella Bibbia troverete scritto quando la leggerete che il re dei Moabiti cioè questo Mesha durante una delle battaglie tanto per cambiare contro quelli là era assediato e per chiedere l'aiuto del suo Elohim gli dice se tu mi aiuti io ti brucio il mio primo genito e glielo brucia perché questo esattamente come Yahweh erano tutti uguali quindi lui gli brucia il suo primo genito nella battaglia tra quello che vi dicevo prima di Iefte contro gli Ammoniti quando gli dice il tuo Elohim ti ha dato il mio Elohim mi ha dato Iefte dice a Yahweh se tu mi aiuti nella battaglia io ti brucio la prima quando torno a casa ti brucio la prima persona che mi viene incontro da casa mia la prima persona che gli viene incontro è sua figlia primo genita e lui gliela brucia questi erano gli Elohim biblici altro che Dio e tutti uguali cioè non è che Yahweh fosse peggiore rispetto agli altri tutti volevano le stesse cose tutti volevano le stesse cose quando in una di queste in una di queste battaglie contro i Madianiti discendenti diretti di Abramo che qui è definita la guerra santa contro i Madianiti che era la guerra di sterminio dei Madianiti guerra santa invece l'Isis no quella dell'Isis è Barbara questa qui era la santa la radice è la stessa tornano numeri 31 io lo dico sempre per verifica numeri 31 14 per questo vi dico se leggete i miei libri leggeteli con la Bibbia a fianco Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito capi di migliaia di centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra e Mosè disse loro avete lasciato in vita tutte le femmine mi ricordate gli ordini avete lasciato in vita tutte le femmine si adirò si adirò avete lasciato in vita tutte le femmine ora fate così versetto 17 uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo cioè c'è una madre con un figlio quindi si è unita con un uomo uccidete tutti e due tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi e uno dice vabbè quando noi sentiamo ragazze diciamo si sono tenute le diciottenne ventenni vabbè ok il problema è che in ebraico non c'è scritto così comprate fatevi prestare insomma quello che volete la Bibbia pubblicata dalla Giuntina traduzione interlineare con l'ebraico traduzione del rabbino Rav Dario di Segni la Bibbia è Pentateuco e Aftarot e trovate la traduzione giusta esattamente come è scritto in ebraico tenete per voi tutte le bambine che non si sono unite con un uomo non le ragazze nell'ultimo libro Mondadori che stasera è finito in un attimo c'è un lungo capitolo dedicato a questo aspetto con la tradizione rabbinica dove era lecito fare sesso con le bambine di tre anni e un giorno e qui c'è scritto tutte le bambine qui invece per le Bibbie nelle famiglie tutte le ragazze perché è accettabile se prendete le Bibbie tradotte dagli ebrei c'è scritto le bambine e uno dice vabbè com'è? coerente che sì no 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 ma qui parla di ragazze purtroppo sì 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 ah sì coerente ho capito nel senso che praticano ancora sì poi però alla fine quindi qui c'è Mosè che dice questo e qui c'è la spartizione del bottino di guerra a Dio che cosa aspetta dopo questa campagna militare 675 pecore 72 buoi 61 asini e 32 persone viventi siccome le uniche persone viventi sono le bambine cosa se ne fa Dio di 32 bambine? aveva una nursery un asilo infantile? o ci faceva sesso o se le faceva bruciare? ma è qui eh tenete in vita le bambine 32 le prendo io prego prego professore perché come dice lei io mi riferisco all'ombra di Giovan quando funge non esegue gli ordini di Ame finisce il fuoco a male e gli è rimpiocchito da un pesce se facciamo vita che dovrebbe essere che quello che è successo e poi senza offesa da nessuno sarebbe vero anche di l'occhio la stessa storia che mi ha raccontato e viene il dubbio io personalmente ho pensato che quello non fosse un pesce in altri raccogli è stato in cui si dice che lui guardava fuori con le finestre rotonde e questa è una riflessione molto semplice nel senso che è poi riguarda e mi riferisco anche alla conoscenza no? insomma poi diceva infatti non poste per vivere come brutti ma perseguire per conoscenza ma il problema se noi come dice lei della produzione che ha fatto per l'uomo è stato fatto per l'amorata non perseguire il tuo e conoscenza ecco così una riflessione fuori una risposta della sua questo ce lo dicono tutti compresa la Bibbia no? noi siamo stati fatti per amare e servire Dio cioè amare e servire gli Elohim prego chi è nobile? ah sì certo il lavoro è veramente una condanna anche perché in realtà noi lavoriamo per pagare l'energia quando secondo certa fisica noi ce l'avremo tutta gratis ma quella fisica lì non deve passare vabbè lasciamo stare parlo di Bibbia sì la riflessione è questa poi dopo noi come dire siamo andati avanti e stiamo andando avanti anche per conto nostro quindi chiaramente noi cerchiamo di arrivare a sapere anche perché probabilmente da un certo punto in avanti siamo anche numericamente sfuggiti un po' il controllo no? e quindi però all'inizio noi siamo stati fatti per lavorare per loro su questo non ci sono dubbi chiunque fossero chiunque fossero noi siamo stati fatti per lavorare come schiavi per la verità continuiamo a esserlo perché il sistema finanziario che ci governa è quello descritto nella Bibbia su questo non ci sono dubbi non cambia di una virgola voi non presterete mai denaro non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni voi presterete denaro alle nazioni perché chi presta denaro è padrone e chi riceve denaro in prestito è schiavo basta guardarci attorno quindi il sistema finanziario è quello lì non ci sono dubbi quindi noi continuiamo a lavorare a produrre per con sistemi diversi ovviamente allora magari facevamo lavori come ci raccontano i testi antichi lavori fisici adesso altri tipi di impegno ma insomma il significato e il fine è sempre quello lì dopodiché noi come dire siccome tra le varie quelle 11-12 sequenze geniche che noi abbiamo dentro e che nessuno sa spiegare da dove arrivano che sono quelle che fanno sì che noi siamo sapiens che sono quelle che regano il cosiddetto processo di encefalizzazione che è andato avanti con una velocità spaventosa impensabile in natura e questa roba qui ovviamente ci ha dotato poi anche di capacità di ragionamento autonomo e quindi è chiaro che noi andiamo avanti anche per conto nostro no? quantomeno nel seguire virtù e conoscenza cioè cercare di capire come stanno le cose quello che stiamo facendo ecco cercare di capire quale potrebbe essere la nostra vera storia perché forse quella che ci hanno raccontato non tiene più quindi questa è un pochettino la riflessione prego nella Bibbia si parla anche dei giganti volendo quindi c'è un riferimento anche di c'è una spiegazione più che un riferimento allora la Bibbia ci parla dei giganti in alcuni passi lui li nomina severamente lì si parla dei giganti perché la cosa non è sicurissima è quando nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che i figli maschi degli Elohim videro che le femmine adame erano appetibili si unirono con loro e fecero molti figli fecero dei figli questi figli vengono chiamati Ghiborim Ghiborim vuol dire uomini potenti uomini famosi cioè in mezzo sangue e la cosa bella è che nel capitolo 6 della Genesi quando si parla dei Ghiborim si dice allora chi ha studiato la storia greca insomma quello che viene chiamato il mito greco sa chi sono gli eroi i mezzo sangue quindi figli di uno di loro e di una di noi o di una di loro e di uno di noi ok Ercole piuttosto Gilgamesh invece per quanto riguarda i racconti medio orientali eccetera quindi tutti dei mezzo sangue questi qui dei mezzo sangue sentite cosa dice la Bibbia sono questi i famosi eroi dell'antichità cioè esattamente come per i racconti greci gli eroi dell'antichità sono i mezzo sangue scritto qui scritto qui e dice c'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo quando i figli degli Elohim si accostarono alle figlie degli uomini quindi quando gli Elohim si univano alle figlie degli Adam sulla terra c'erano i giganti qui non ci dice che i giganti erano i figli di quelle unioni perché i figli di quelle unioni sono chiamati Giborim il termine ebraico per giganti è Nefilim però c'è una parte dell'esegesi ebraica che dice che è sbagliato tradurre Nefilim con i giganti cosa che hanno fatto invece i greci che hanno tradotto con Gigantes dice perché qui e qui cambiano la vocalizzazione e dicono che in realtà Nefilim significherebbe gli aborti cioè una parte dell'esegesi ebraica dice che quando si univano gli Elohim con le Adam praticavano l'aborto selettivo cioè uccidevano i feti maschi e facevano nascere soprattutto femmine e Nefilim che viene vocalizzato diversamente significherebbe appunto gli aborti cioè quelli che venivano fatti cadere il che vuol dire che erano in grado di fare comunque un esame prenatale cioè per capire se il feto era maschio o femmina e il feto maschio lo eliminavano lasciandone in vita qualcuno ok quindi questa parte qui può significare giganti ma potrebbe anche non significare giganti poi la Bibbia però ci parla dei giganti e li chiama Anakim Refaim Zamzumim Efim e ci dice che dormivano per esempio in un posto ci dice si può ancora vedere il letto dove dormiva uno di quelli che è lungo 4 metri e largo 2 e in 2 passi la Bibbia ci dice che questi qui avevano 6 dita per ogni arto e per essere sicuri che il lettore capisca c'è scritto 24 dita in tutto cioè come dire non mi sono sbagliato 6 dita per ogni arto 6 per 4 24 quindi i giganti dormivano in letti lunghi 4 metri larghi 2 e avevano 6 dita per ogni piede 6 dita per ogni mano ok che quindi vengono distinti pare vengono distinti dagli Elohim tant'è che quelle poche altre volte in cui la Bibbia ci parla dei giganti ci dice che combattevano nelle file dei filistei contro gli israeliti quindi erano ostili all'Elohim Yahweh ok quindi questo è ciò che ci racconta la Bibbia va bene mi piace essere per cortesia potrebbe leggere il capitolo 4 dell'Apocalisse e dicarvi quello che pensa perché ho trovato delle problemi le dico di do per un motivo l'Apocalisse vi chiederebbe un'unissima parte e prenderne un pezzo e leggerlo non avrebbe significato nel senso che l'Apocalisse viene in genere inteso come testo profetico in realtà potrebbe essere un testo scritto in codice per le nascenti chiese di allora con esclusivo riferimento a ciò che succedeva allora le faccio un esempio e per questo vi dico che mettersi a commentare un pezzo sarebbe veramente sì 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 lo so lo so lo so però sarebbe non è una domanda sarebbe una cosa veramente molto molto lunga molto molto lunga preferirei non farlo le faccio un esempio per dire sapete che nell'Apocalisse si parla del 666 il numero della bestia che viene interpretato in un sacco di modi diversi eccetera 666 potrebbe essere la trasposizione numerica del testo greco Caesar Nero cioè l'imperatore Nerone tant'è che per esempio lo stesso passo nel papiro di Ossirinco che è un papiro più antico rispetto a quelli da cui deriva l'Apocalisse il 666 non è 666 ma è 616 che sarebbe la trasposizione numerica del nome greco di Caligola che è l'imperatore che c'era prima di Nerone quindi come dire sarebbe un testo che veniva cambiato mano a mano per esempio che in quel caso cambiava l'imperatore quindi cambiava riferimento numerico il suo nome per questo dico cioè leggere un singolo passo richiederebbe che dovessi fare tutta l'introduzione che ho fatto per l'Antico Testamento lo so che poi si parla anche di possibile tecnologia si parla di questa Gerusalemme celeste come di un qualcosa di enorme che arriverà qui e porterà via un sacco di gente tra l'altro anche dove si parla dei 144.000 in realtà poi si dimentica che subito dopo c'è scritto che tutti quelli che saliranno lì che saranno i salvati sono di un numero che non è quantificabile quindi non è vero che ne salvano 144.000 ma ne salverebbero molto di più però il discorso dell'Apocalisse veramente richiederebbe una conferenza abbia pazienza una sua opinione sul futuro come si? io il futuro geopolitico attuale una sua opinione nel senso abbiamo parlato del passato facendo un po' di più di questi ieri sia qui da un quarto di più 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 se sono qui bisogna vedere chi vince cioè nel senso che siccome questi sono potenti se sono qui questi sono potenti ma non onnipotenti il che vuol dire che se anche hanno dei disegni poi in realtà non sempre ciò che uno pensa ciò che uno ha come obiettivo poi si realizza ok? allora diciamo così che se questi sono qui e se questi stanno governando più che un pensiero io posso formulare una speranza che prima o poi in un qualche modo si manifestino per ridare un nuovo ordine ma non il nuovo ordine mondiale di cui si parla che è un nuovo ordine intendo dire per dare nuova chiarezza o forse una chiarezza definitiva a ciò che noi veramente siamo ecco questo non è un pensiero ma una speranza cioè sapere ciò che veramente siamo sperare è lecito io spero sì cosa c'è dopo l'altro? cosa c'è? c'è la morte c'è la morte c'è la morte cosa dice la tizia? c'è la morte c'è la morte c'è la morte coelet 319 infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali come muoiono questi così muoiono quelli gli uni e gli altri hanno uno stesso respiro vitale senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale gli uni e gli altri sono vanità essi vanno tutti verso lo stesso luogo gli uni e gli altri vengono dalla polvere gli uni e gli altri tornano alla polvere cioè io non so se se questo è vero oppure no potremmo pure dire che chi ha scritto questo passo non capiva nulla perché esiste l'anima esiste l'immortalità io questo non lo so lei mi ha chiesto cosa dice la Bibbia lui fuori trova moglie ma fuori dal Gan Eden chi c'era come popolazione? quindi dentro il Gan Eden erano l'homo sapiens anche? allora se vogliamo fare una distinzione diciamo così che gli adamiti erano una specie particolare geneticamente più pura che loro si erano fatti per loro e doveva stare dentro il Gan Eden poi quando è successa quella roba che non doveva succedere loro hanno temuto che diventassero un po' troppo potenti e per evitare che avessero accesso alle altre pratiche che erano riservate agli Elohim li hanno cacciati cacciandoli fuori però c'erano i sapiens normali il sapiens risulterebbe siccome deriva da quella traslocazione roberzoniana è sempre un prodotto loro poi all'interno del sapiens loro si sono fatta questa specie particolare che è quella degli adamiti che è la specie di cui si occupa la Bibbia perché la Bibbia non si occupa dell'umanità si occupa degli adamiti che sono un gruppo particolare dal punto di vista genetico molto più puro rispetto agli altri perché aveva più componente genetica loro anche perché loro si univano sessualmente con le femmine adam mentre il sapiens continuava per conto suo tant'è che Caino quando uccide Abele che viene allontanato dal clan familiare dice ma se voi mi allontanate di qui chiunque mi incontrerà mi ucciderà perché lui temeva di finire in mezzo a quegli altri che rispetto a loro erano dei barbari perché loro erano un gruppo molto acculturato perché stava a contatto con gli Elohim mi spiego gli altri erano i sapiens normali che stavano facendo insomma il loro normale processo che venivano utilizzati eccetera ma non avevano lo stesso trattamento né genetico né culturale diciamo così di cui invece godevano gli adamiti che è il gruppo di cui si occupa la Bibbia ma direi da un certo punto in avanti sì cioè nel senso allora noi pensiamo una cosa che Adamo e Eva si possono collocare intorno al 4500 avanti Cristo cioè sono molto vicini a noi a Adamo e Eva cioè gli adamiti e questo deriva da tanti tipi di calcoli fatti a partire anche da premesse diverse 4500 4200 avanti Cristo quando questi vengono allontanati di lì quindi questo clan tribale perché non è che ci fosse una e una no? perché per farli riprodurre avevano vari maschi varie femmine eccetera quando questi vengono allontanati quindi questi portano fuori e siamo nel nord della Mesopotamia quindi poi sciamano lungo il territorio portano fuori tutte le loro conoscenze l'antropologia e l'archeologia che cosa ci dicono? che nel quarto millennio avanti Cristo in Mesopotamia compare senza alcuna storia pregressa una civiltà completamente formata cioè i sumeri appena appaiono sulla storia conoscono la scrittura l'arte della costruzione l'agricoltura l'astronomia la matematica la scrittura allora noi abbiamo un testo che ci dice che un gruppo fortemente acculturato viene fatto uscire dal Gan Eden che significa giardino recintato e protetto quindi questo laboratorio nel quale non si poteva entrare questi qui sciamano lungo la Mesopotamia e l'archeologia ti dice che lì improvvisamente compare una civiltà che è già completamente formata se mettiamo insieme le due cose ci viene da dire che gli adamiti sono i sumeri cioè cacciati di lì loro cominciano a vivere in Mesopotamia e improvvisamente compare questa civiltà che teoricamente potrebbero essere proprio loro ok? guarda la sirpa da serpente e i loro contropposti allora quando Eva fa quella roba che non doveva fare cioè pare che si sia unita sessualmente con un Elohim da cui e da questa unione sessuale sia nato Caino i capi degli Elohim dicono in effetti e poi lei si unisce poi con Adamo e nasce Abele come secondo genito i capi degli Elohim dicono che ci sarà sempre inimicizia tra la stirpe del serpente tra la tua stirpe e la stirpe del serpente cioè lì paiono essere identificate due discendenze due linee una che è quella diciamo così cainita che deriva dall'unione sessuale tra Eva e in alcuni scritti rabbinici c'è scritto che Eva potrebbe aver subito una violenza sessuale cioè essere stata obbligata insomma avere questo rapporto sessuale e poi invece c'è la discendenza adamitica che sarebbe quella pura cioè quella fatta esclusivamente proprio da Adamo ed Eva diciamo così quindi da questi due individui che condividevano il patrimonio genetico e quindi lì si pone questa distinzione dice che tra le due stirpi ci sarà sempre rivalità ok dopodiché la Bibbia fa un sacco di confusione nel senso che quando ci parla delle due stirpi confonde anche i nomi per cui diventa difficilissimo nel senso che mette nomi uguali o nomi simili in tutte e due le stirpi per cui diventa difficilissimo identificarle ora siccome poi come dire vivevano sullo stesso territorio è possibile anche pensare che a un certo punto il tutto si sia ricomposto attraverso le unioni attraverso delle fusioni perché in realtà vivevano poi tutti lì nel territorio della Mesopotamia però lì sono identificate effettivamente due stirpi precise il che farebbe pensare appunto che ci sia una stirpe derivante dal serpente che sarebbe questo che ha diciamo tentato Eva se fa per dire no e che avrebbe avuto rapporto sessuale con lei serpente in ebraico il termine significa anche colui che detiene della conoscenza che è in grado anche di prevedere le conseguenze delle sue azioni e quindi qualcuno che deve aver fatto un qualcosa intenzionalmente in contrasto con i capi del Gan Eden che non volevano che questo avvenisse e per questo che poi viene identificata questa rivalità tra le due stirpi tant'è che poi Adamo ed Eva allora poi Caino uccide Abele tra l'altro nella Bibbia si è scritto che Abele offriva agli Elohim gli agnelli e Caino offriva i prodotti della terra e c'è scritto che gli Elohim gradivano il dono di Abele ma non gradivano i doni di Caino ora se mettiamo insieme questo con ciò che dicevamo prima che loro adoravano perché ne avevano bisogno il fumo prodotto dal grasso animale si capisce perché prediligevano il dono di Abele perché Abele gli bruciava il grasso animale Caino gli bruciava i cetrioli di cui a loro non fregava assolutamente nulla quindi c'è pure questo tipo di spiegazione per cui c'è la rivalità tra i due Caino uccide Abele dopodiché Adamo e Eva si accoppiano nuovamente e anche lì analizzando bene ciò che c'è scritto nella Bibbia si dice che Adamo ebbe un altro figlio a sua immagine e somiglianza quindi in realtà si potrebbe addirittura pensare ad altri prodotti di clonazione fatti artificialmente per avere di nuovo individui uguali cioè se proprio si va a vedere letteralmente quello che c'è scritto e quindi fa un altro figlio diciamo così che si chiama Seth Seth fa un figlio che si chiama Enosh e la Bibbia dice che al tempo di Enosh si iniziò ad invocare il nome di Yahweh al tempo di Enosh il che vorrebbe dire che al tempo di Adamo Eva Caino Abele e Seth il nome di Yahweh non c'era la cosa è anche spiegabile nel senso che siccome da quel che par di capire lui era un militare lui con diciamo così gli ingegneri genetisti non aveva nulla a che fare quindi se su quella stirpe lì in origine operavano i genetisti lui arriva dopo a cose fatte perché lui lì non c'entrava nulla perché lui era un militare tant'è che appunto la Bibbia si dice che al tempo di Enosh si comincia a conoscere quel nome lì non prima ok poi c'è sì prego gli ingegneri probabilmente possono essere proprio dei someri allora c'è qualche possibilità che il popolo ebraico discendendo dal popolo di Sen dagli ingegneri possano essere un'organità e che probabilmente hanno fatto di sposarsi quindi fra loro tant'è che la cosa curiosa è questa la Bibbia nomina in sostanza tutti i popoli del Medio Oriente per esempio la Bibbia anche nomina gli Ittiti il popolo di Catti che fino a quando non è stata scoperta la cività degli Ittiti nel Novecento si diceva che la Bibbia si era anche inventata dei nomi di popoli inesistenti poi invece si è scoperto che gli Ittiti esistono e gli Ittiti sono citati nella Bibbia ma la cosa curiosa è che la Bibbia non cita mai i Sumeri cioè non li nomina e il fatto che non li nomini e questa è la civiltà più importante che c'è stata in tutto quel territorio potrebbe derivare dal fatto semplicemente che sono loro cioè nel senso loro parlano degli altri e non citano i Sumeri perché i Sumeri sono loro mi spiego cioè questa è una spiegazione una possibile spiegazione no? cioè gli italiani se parlano della storia d'Europa parlano dei francesi dei tedeschi degli austriesi eccetera no? parlano di tutto ciò che facevano e poi dicono noi 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 ma non è che si mettono a scrivere gli italiani facevano perché sono italiani dice i francesi facevano i tedeschi facevano poi noi ecco loro dicono noi e gli altri e i sumeri però in questi altri non ci sono mai e chissà che la storia non derivi proprio da loro ok? prego i testi dei? ah i teschi scusa ho capito i testi non sì sì nel senso che la dolicocefalia è è un elemento che è stato trovato in varie parti del mondo è sempre comunque collegato ai governanti o alle alte caste sacerdotali ecco esattamente i faraoni ma per dire mi riferisco anche alle caste sacerdotali nell'isola di Malta piuttosto che alla dolicocefalia testimoniata in centro-sud America a parte quella artificiale dico quella naturale tipo per esempio i teschi dolicocefali senza la sutura sagittale che quelli non sono cioè quelli prodotti artificialmente comunque la la sutura sagittale ce l'hanno perché tutti ce l'abbiamo quelli per esempio no e quindi insomma sì sono legati probabilmente a quelle caste lì una domanda buonasera buonasera volevo chiederle il senso che è rimandato a Carino per farlo distinguere tra i i bar che cos'è non si sa e poi la sua interpretazione sulla nuova di modello era effettivamente un problema che si identificava fisicamente tipo per esempio il fatto non so come dire di avere meno peli degli altri di 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 oppure era l'identificazione del fatto che lui come dire parlasse una lingua e purtroppo lì ci sono un sacco di ipotesi ma tanto sono tutte solo ipotesi quindi ognuno può scegliere quella che vuole non ho elementi per dire è probabile questa piuttosto che un'altra allora per quanto riguarda la torre di Babele la Bibbia ci dice che questo popolo questa gente che si era riunita e se andiamo qui nei racconti extra biblici o anche per esempio in Giuseppe Flavio eccetera si dice che c'erano dei popoli che avevano ricevuto l'ordine di non riunirsi ma questi contrariamente all'ordine ricevuto si sono messi assieme in un'alleanza e c'è scritto che costruivano hanno costruito stavano costruendo un centro abitato con una torre con la quale arrivare al cielo e anche questo viene interpretato in termini allegorici e metaforici come l'arroganza dell'uomo che costruisce una torre per arrivare al cielo e arrivano quegli altri e gliela distruggono e li ridividono in modo che questa alleanza non si formi più e quindi dividono le lingue la cosa curiosa è che siccome questi costruivano una torre che avrebbe consentito loro di arrivare al cielo che cosa poteva essere questa torre visto che era costruita all'interno di un centro dove si andava ad abitare con questa roba che serviva per arrivare al cielo io mi chiedo facendo sempre quegli ragionamenti da stupido se io voglio avvicinarmi al cielo invece di impiegare un sacco di mesi a costruire una torre alta 200-250 metri in due ore salgo su un'altura di 700 metri a piedi e sono tre volte più alto della torre che avrei costruito in cinque mesi oppure salgo su una montagna alta 3000 metri visto che avevano al nord le alture dell'Urarto quindi è chiaro che è una cosa ridicola pensare che costruiscono una torre per salire cioè io vado in pianura costruisco una torre di 200 metri quando posso andare su una collina di 500 ci vado in due ore quindi è chiaro che non si riferisce a quello visto che lì si era nel periodo in cui loro si combattevano tra di loro con le loro armi la cosa più probabile è che quella fosse una rampa di lancio che tra l'altro è pure presente nella Bibbia per esempio nelle visioni di Zaccaria Zaccaria dice chiamiamo le visioni cioè nelle cose che ha visto che a un certo punto vede arrivare una Megillah volante cioè un cilindro volante e ne dà anche le dimensioni 20 metri per 5 dopodiché arriva un altro oggetto volante che si chiama EFA che non viene mai tradotto perché non si sa come tradurlo per fortuna un EFA volante che si posa a terra ha una bottola metallica che viene aperta e dentro c'è una femmina che lo pilota dopodiché arriva in volo un'altra femmina tutte e due assieme ripartono e Zaccaria chiede al Malach cioè all'angelo che c'è vicino a lui dove stanno andando e lui gli dice lo stanno portando in terra di Shinar che vuol dire terra di Sumer dove gli stanno costruendo una piattaforma sulla quale verrà posato quindi di oggetti volanti che si posavano sulle piattaforme la Bibbia parla chiaramente siamo nel libro di Zaccaria lo trovate nelle traduzioni nelle traduzioni vostre quindi il fatto di parlare di una rampa di lancio è quanto meno coerente con una serie di altri racconti biblici ed è coerente con il racconto di ciò che è successo a Sodoma e Gomorra che è una storia che ci viene raccontata per il fatto insomma come dire Dio avrebbe ucciso insomma sterminato quella popolazione perché erano dei sodomiti e quindi per sterminare dei sodomiti ha ucciso tutti i bambini donne anziani animali anche i bambini perché così si è portato avanti col lavoro perché tanto sarebbero diventati sodomiti comunque eccetera peccato che in Deuteronomio 29 c'è scritto che Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché non accettavano più il patto di alleanza con Yahweh cioè stavano cambiando alleanza militare e questa roba qui è scritta anche in alcuni testi assiri dove si parla esattamente della stessa vicenda e si dice anche i nomi di quelli che sono intervenuti in questa battaglia c'era uno di loro che si chiamava Nabu che stava appunto convertendo la gente cioè stava portando la gente da un'alleanza ad un'altra allora interviene un altro che si chiama Nergal il quale Nergal arriva in volo sulle cinque città e su ciascuna di quelle sgancia l'arma dice lancia l'arma del terrore e tutte le città vengono annientate quindi combattevano tra di loro con le loro armi in questi racconti assiri tra l'altro studiate dal professor Roberto Bonchistiano che ha scritto ha pubblicato un lungo studio su questo l'uso di quelle armi tra l'altro è stato reso possibile perché erano armi molto pericolose e quindi potevano essere utilizzate soltanto con il permesso dell'alto consiglio militare quindi se riunito questo consiglio ha dato il permesso di usare queste armi queste armi sono state sganciate e racconta il professor Bonchistiano che i capi che stavano a Eridu in Mesopotamia ad un certo punto sono stati costretti a fuggire da Eridu per non morire perché dicono che il vento del male sarebbe arrivato fino a qui chi avrebbe potuto predirlo? Cioè hanno rischiato secondo questi studi di essere uccisi dal fallout che loro non avevano previsto che sarebbe potuto arrivare lì e quindi hanno dovuto abbandonare i loro centri di comando per non morire e lì si dice che la gente moriva che aveva la bocca e che cadevano i capelli si bruciavano i polmoni la bocca e la testa si riempivano di sangue quelli che si chiudevano in casa per questa morte invisibile morivano come i topi e la Bibbia quando ci parla di Sodoma e Gomorra ce ne parla più volte per esempio ce ne parla a distanza di circa mille anni perché questa vicenda è del 2000 a.C. il professor Bonchistiano la colloca per tutta una serie di studi geologici dal 2025 a.C. prego sì anche anche sì sì certo 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 e la Bibbia ce ne parla e ce ne parla ripeto a distanza di circa mille anni e dice che l'acqua in quel territorio è ancora amara ci dice che quel territorio è un territorio di desolazione e di ricardi e nel libro della sapienza scritto 2000 anni dopo la vicenda ci dice che in quel territorio gli alberi da frutto portano frutti che non giungono a maturazione a distanza di 2000 anni da quel momento lì in avanti da Sodoma e Gomorra in poi non si ha più notizio di utilizzo di quel tipo di armi anche perché se hanno rischiato di morire poi evidentemente devono aver deciso di non usarle più combinazione è lo stesso periodo in cui nella valle dell'Indo si celebra la grande battaglia di Mohenjo-Daro che è una città che viene completamente distrutta dalle armi che in sanscrito si chiamavano Tejas Astras che vuol dire armi ad energia questo leggiamo fatene quel che volete se vi piace lo tenete se non vi piace lo buttate ciao ciao complimenti due curiosità cerco di essere rapidissimo la prima è possibile che una delle strutture del mondo antico i giardini messi di Babilonia fossero un gran Eden o magari un tentativo di riproduzione così come la purificazione egizia cercano di riprodurre l'idea per un governo maggiore sì non sono in grado di dire sì ok ma se vuoi salutare ok seconda so che vado a toccare un terreno piuttosto vericoloso di 6 milioni di ebrei io c'ho una curiosità che mi gira di testa da un po' mi sono fatto una mia idea ma ovviamente non sono nessuno ma mi applicavano lavorato Hitler visto tutto quello che si era detto prima eccetera eccetera so che mi deve come allora ti aspetto dopo però ti leggo una cosa grazie ma è vecchio sto foglio qui è tutto il sun quotidiano statunitense 6 giugno 1915 6 milioni di ebrei in russia sono perseguitati cacciati umiliati torturati fatti morire new york times 18 ottobre 1918 6 milioni di ebrei in europa hanno bisogno di aiuto new york times 8 settembre 1919 6 milioni di ebrei in ucraina in polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati 1919 new york times 12 novembre del 19 6 milioni di ebrei in europa sono stati ridotti in condizioni di povertà fame e malattia atlanta constitution febbraio 1920 raccolti 50 mila dollari per salvare la vita di 6 milioni di ebrei in europa new york times 1920 100 mila dollari per 6 milioni di ebrei che muoiono di fame new york times giugno 1921 all'america si chiede di salvare 6 milioni di ebrei in russia la gazzetta di montreal 1931 6 milioni di ebrei sono di fronte alla morte nel sudest dell'europa new york times maggio 1936 la comunità chiede che venga concessa la possibilità di rifugiarsi in palestina ai milioni di ebrei che stanno soffrendo a causa dello european holocaust 1936 si chiede alla gran britagna di aprire le porte della palestina agli ebrei che sfuggono all'european holocaust 1938 6 milioni di ebrei in europa privi di tutela e stanno lentamente morendo cioè quando hitler succhiava il biberon c'era già chi scriveva che 6 milioni di ebrei in europa sarebbero morti ma io vi ho letto a partire dal 1915 ma ho pubblicato in uno dei miei lavori tutti i riferimenti ai link degli articoli anche di riviste giudaiche che scrivevano di 6 milioni di ebrei alla fine del 1800 quindi quando hitler non era ancora nato c'era già chi diceva che in europa 6 milioni di ebrei sarebbero morti e 6 milioni di ebrei sono morti ma lo scrivevano da 50 anni prima quindi se io fossi un ebreo vorrei conoscere la verità su questa storia ma non sono un ebreo quindi vorrei conoscere la verità vera se così si può dire prego sì spero prego ci previsi si quanti differenze con la teologia che lo indica e della superiore nel senso che è riguardente il dei ma è di tanto mentre invece quella come si si certo c'è certo sì allora facciamo le due considerazioni Elion ha in ebraico in sostanza lo stesso significato che Anu ha nella lingua sumera cioè quello che sta in alto quello che sta sopra cioè il comandante poi mentre la storia scritta dai sumeri è una storia scritta ad ampio raggio quella scritta nella Bibbia come ho detto prima riguarda questa famiglia che ha scritto la sua storia del suo rapporto con questo qui degli altri a loro non interessa nulla per questo motivo non si parla degli altri salvo parlare degli altri cioè di quei pochi a cui quei pochi Elohim a cui sono state affidate altri gruppi della stessa famiglia di Abramo e contro cui combattevano ok quindi per questo più che di discrepanza diciamo che da parte di questi che hanno scritto la Bibbia non c'era interesse a raccontare la storia generale perché a loro interessava raccontare la loro per quanto riguarda la storia del diluvio qui sarebbe interessante forse necessario capire se il diluvio a cui si riferisce la Bibbia è quel grande diluvio a cui si riferisce lei o come scrivono certi rabbini il secondo diluvio che sarebbe in realtà una sorta di alluvione locale provocata artificialmente per uccidere tutti quelli che stavano lì sotto e questa sarebbe da collocare sulla base delle testimonianze trovate da Leonard Wool in Mesopotamia degli strati di Ergilla intorno al 3200 a.C. quindi secondo molti rabbini la Bibbia non parla del grande diluvio ma parla di un secondo diluvio che potrebbe essere in realtà un qualcosa di molto localizzato ok quindi questo potrebbe avere sempre col condizionale potrebbe avere questa spiegazione va bene? c'è ancora una domanda buonasera volevo dire una cosa se era possibile che c'era una connessione tra la restaurazione e l'antichità magari utilizzata da questi personaggi magari per dei film per dei film perché allora allora c'è sempre stato secondo me c'è qualcosa di più certo c'è qualcosa soprattutto per il fatto che sarebbe interessante che qualcuno riuscisse a spiegarci come degli uomini del neolitico abbiano potuto avere loro spontaneamente accesso a loro capire che poteva servire a qualcosa a che cosa non lo so perché di fatto allora meno che mai non serviva assolutamente a nulla per gli uomini del neolitico tant'è che il vero potere lo dava il ferro cioè chi era in grado di lavorare il ferro vinceva le guerre perché con loro non vince un tubo basti pensare agli ittiti eccetera se sono vere le testimonianze di queste miniere a cielo aperto scoperte nel centro Sudafrica che sono state datate 150.000 anni fa ci si chiede chi è che cercava loro 150.000 anni fa quando c'era l'homo erectus che loro non potevano neanche vederlo ma anche se lo vedeva dentro una pietra come poteva produrre le temperature no? per poterlo estrarre per poterlo lavorare eccetera quindi evidentemente questa roba qui deve arrivare da qualcun altro dopodiché è rimasto il discorso dell'oro tant'è che tutte le civiltà ci parlano dell'età dell'oro come quella importante e ci viene raccontato che l'età dell'oro era l'età in cui gli uomini e gli dèi vivevano a contatto tanto per cambiare ma proprio a contatto fisico nel senso che gli uomini lavoravano per gli dèi nella estrazione mi spiego? e anche qui i testi sumerici raccontano che la parte più bassa delle gerarchie di quelli lì e qui sto parlando delle traduzioni ufficiali degli accademici non del così almeno evitiamo ogni contestazione arrivano allo stesso ma non ha importanza si dice che parlo delle traduzioni pubblicate dalla UTET eccetera quindi della serologi ufficiali si dice che appunto le parti più basse della gerarchia erano costrette a sopportare delle corvè pesantissime si sono ribellate in questa ribellione i capi hanno addirittura rischiato di essere uccisi quindi uno dei capi ha detto qui dobbiamo fare cioè trovare qualcuno che lavori per noi uno dei due capi Enki insomma uno dei due fratelli figli di Anu il corrispettivo di Elion e ha detto ma qui c'è qualcuno che può lavorare cioè qui sul chi cioè sul pianeta c'è qualcuno che può lavorare per noi è sufficiente che gli mettiamo dentro un pezzo nostro e attraverso l'ingegnere genetista femmina Ninkurshag hanno messo dentro il pezzo loro e hanno fatto hanno cominciato a fare il sapiens cioè individui in grado di capire e eseguire ordini perché questo era quello che interessava e probabilmente hanno cominciato appunto a lavorare lì tant'è che poi la Bibbia ci dice che hanno preso la dam e l'hanno posta in Gan Eden ora la genetica concernente l'uomo ci dice che il sapiens o comunque le prime sarebbero comparsi appunto in centro Sudafrica ok il che ci spiegherebbe anche il fatto che poi hanno preso qualcuno di quei maschi di lì se lo sono portati nei loro Gan Eden per purificarlo ulteriormente produrre delle altre modifiche e quindi per esempio anche il colore della pelle eccetera 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 prego quelli della testa nera difatti i primi devono essere quelli della testa nera dopodiché hanno cominciato a fare altri che non avevano più le teste nere proprio come noi facciamo con gli animalucci nessuna differenza e quindi tutto questo di nuovo avrebbe un senso cioè laggiù laggiù hanno fatto i primi esperimenti perché laggiù hanno trovato gli individui su cui poter intervenire laggiù cercavano loro dopodiché per farsi delle specie per loro che lavorassero per loro nei loro laboratori hanno preso degli adam di là e lo posero in Gan Eden ok quindi questo corrisponderebbe a ciò che c'è scritto nella Bibbia e all'inizio effettivamente pare che cercassero loro perché tutti ci parlano dell'età del loro cioè dell'età in cui uomini e dei vivevano a stretto contatto anche perché ripeto a nessun uomo del Neolitico poteva venire in mente che quella roba lì poteva servire a qualcosa quindi qualcuno invece doveva avere delle conoscenze molto precise per estrarlo lavorarlo e utilizzarlo perché forse non voleva essere identificato forse non voleva essere identificato cioè non voleva che si capisse chiaramente chi era lui tant'è che quando Mosè gli chiede chi sei tu dice perché io lo devo dire a quegli altri lui gli dà una risposta che è molto curiosa e su questa poi ci sono un sacco di lavori lui gli dice eie asher eie che viene anche qui letta in chiave insomma in tutte le chiavi possibili immaginabili ma il significato più immediato è io sono quello che sono fatti gli affari tuoi punto cioè tu esegui chi sono io non te ne frega niente tu esegui i miei ordini stop cioè non farmi quella tant'è che sempre nella Bibbia pubblicata dalla giuntina che citavo prima quindi nella Bibbia ebraica in una nota c'è scritto che questo forse vuol dire che il suo nome non aveva importanza cioè come dire io sono il comandante tu non permetterti cioè fregatene di chi sono io non preoccuparti tu rispetta soltanto il patto esegui i miei ordini e quindi forse forse non voleva essere identificato allora c'è scritto che Dio maschio e femmina li creò esattamente allora quindi qui siamo di fronte quindi al racconto che riguarda il fatto che in origine quando hanno fatto il sapiens l'hanno fatto sia maschio che femmina dopodiché c'è il racconto di come hanno fatto la prima femmina adamitica attenzione cioè la prima femmina relativa a quella specie lì che loro si sono fabbricati apposta per tenere nei loro laboratori ok? ma i metodi sono uguali cioè io tra ciò che fa l'Isis e ciò che facevano gli israeliti nella Bibbia non vedo nessuna differenza cioè leggete la Bibbia c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari quindi sì cioè nella Bibbia c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari distruggeremo i vostri altari non c'è differenza c'è differenza i metodi sono quelli lì cioè è inutile nasconderlo non lo so e se ci sono cenni nella Bibbia o comunque cenni storici che dicono che fin ha fatto lo schieno lì allora nella Bibbia cenni relativi alla fine che possano aver fatto questo Elohim non ce ne sono nel senso che quello che si capisce che da un certo punto in avanti diciamo dopo l'esilio babilonese quasi pare che si sia perso il contatto nel senso che governavano attraverso dei rappresentanti che erano in realtà i sacerdoti del tempio di Gerusalemme Giuseppe Flavio nel libro Le guerre giudaiche ci dice che nel 70 d.C quando i romani arrivano a conquistare Gerusalemme nel libro sesto delle guerre giudaiche i sacerdoti che sono nel tempio sentono un grande frastuono sentono una voce che dice noi abbandoniamo questo luogo e dice che fu vista una visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta carri celesti circondare la città tra le nubi e poi se ne vanno quindi ce lo dice Giuseppe Flavio che scrive nel primo secolo d.C la cosa curiosa è che esattamente lo stesso evento ci è raccontato dal più grande storico romano Tacito che ci dice esattamente che nel 70 d.C la città di Gerusalemme è stata circondata da carri celesti lo dice Tacito tra l'altro questa roba qui la cito nell'ultimo libro Mondadori quello uscito una settimana fa il falso testamento lì cito anche un'altra cosa cito anche Plinio il Vecchio il quale ci dice che nel tempo delle guerre cimbiche quindi siamo 113 100 a.C quando era proconsolo Gaio Mario nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti una schiere che arrivava da oriente una schiera che arrivava da occidente e quella che arrivava da occidente è stata sconfitta Plinio il Vecchio possibile che siano stati trovati e fatti immediatamente sparire lega i libri di Jim Mars la nostra ma in italiano la nostra storia occulta dove racconta di tutta una serie di cose che ci sono ma non sono a disposizione professore il vostro DNA è un DNA matematico perché faccio l'esempio delle nascite nascono tanti maschi e tante cose in quanto a caso sono leggermente due o due le donne e questo è la nostra dei tempi che si è iniziato quindi programmato programmato ma è un'altra è un'altra ma tanti massi di generazione le donne sono leggermente un euro però c'è la mano secondo me c'è la mano di qualcuno ma l'ho spiegato prima se noi ci osserviamo bene siamo il prodotto della mano di qualcuno non solo della natura ecco diciamo così c'è un paese nel mondo in cui ci sono un milione di maschi e cento tocc sì 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 ma perché in america o che c'è in africa la famiglia è qualcosa che si è no poi questo nell'eslam ti ho spiegato perché quando l'ambiente riunisce i campi e ammette anche la politica perché nel deserto non era giusto che ci fossero due o tre donne senza un'alito e cioè questo perché i paesi c'è questa matematica rispetto alle femmine sì 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 ho capito è matematico sì 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 ma secondo me i segni del fatto che su di noi ci sia una ci sia stata almeno ci sia stata una mano che è intervenuta con quella che questi genetisti tipo il dottor Pietro Buffa eccetera chiamano evoluzione pilotata esatto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti